Ci troviamo in zona Santa Lucida dove dovrebbe sorgere il tanto contestato opificio dei rifiuti. Come potete vedere alle mie spalle siamo proprio a ridosso della diga, come potete vedere anche un paesaggio verde molto naturalistico, anche questa bella quercia che c'è stato comunicato che verrà abbattuta proprio a causa del sorgere di questo opificio. Fino a qualche tempo fa qui parlavamo di una zona, di un'oasi naturalistica doveva sorgere proprio a opera del Comune di Sinistri. Lo stesso sindaco Castronose ne ha fatto portavoce di creare questo oasi per la valorizzazione, questo macro attrattore turistico proprio sfruttando la diga di Sinise. Siamo qui con lo Stella Spagnolo, segretario PD cittadino della città di Sinise. Quello che voglio chiedere è che voglio partire da quella nota del 3 giugno. Voi avete denunciato proprio una mancata informazione, mancata trasparenza e mancata partecipazione o convocazione su questo tema così delicato. Noi riteniamo che argomentazioni di questa natura, investimenti così importanti per il territorio di Sinise e anche del Sinise, debbano necessariamente svolgersi all'interno di un tavolo politico prima che tecnico. Successivamente al Consiglio Comunale del 29 maggio, il Partito Democratico per il tramite dei consiglieri di minoranza ha richiesto un Consiglio Comunale aperto che avesse ad oggetto, ad ordine del giorno, l'impianto di rifiuti di trattamento di RSU. In sede di quel Consiglio sono emersi alcune contraddizioni. La contraddizione maggiore che noi riteniamo di dover ancora oggi sottolineare è la contraddizione in essere tra i due indirizzi di sviluppo territoriale, ritenendo appunto che una valorizzazione turistica dell'area non può assolutamente creare sinergie con la costruzione di un opificio di rifiuti. Ancora di più se tale opificio non venga poi localizzato nell'area industriale di Sinise, perché in effetti la società ha partecipato al bando presentando appunto una delocalizzazione proprio sul sito qui di Santa Lucia. Santa Lucia è un'area prettamente a vocazione agricola. Nuova puntata a Sinise della vicenda che riguarda il progetto dell'opificio dei rifiuti incontrata a Santa Lucia. È nuova cherelle tra la società Nepitali SRL, l'amministrazione comunale Castronuovo e il comitato civico per Sinise rifiuto. A far discutere stavolta è l'incontro a porte chiuse di venerdì tra la società e la commissione consigliare, costituita sia a fine giugno per vagliare il progetto di costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi. Una decina di giorni fa, anche grazie alle telecamere della Nuova, le parti si erano avvicinate, mentre venerdì, pur sapendo dell'incontro, il comitato informato dal sindaco è potuto entrare solo a fine riunione. Sul tavolo ovviamente gli aspetti tecnici della questione. Noi abbiamo fatto, ci siamo impegnati affinché si facesse un bando sull'area di industrializzazione dei sedi inattivi nella nostra area. L'abbiamo ottenuto, è stato fatto un avviso pubblico, hanno partecipato delle imprese, è stata esclusivata un'impresa per fare un impianto che è un opificio per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Al momento c'è l'approvazione da parte della regione. Noi abbiamo fatto una prima discussione attraverso un consiglio aperto un po' di tempo fa su richiesta della minoranza e in quell'occasione abbiamo costituito una commissione ad hoc di studio per approfondire quindi la proposta che c'è in atto su questo opificio. E stiamo davanti su questo discorso, quindi approfonderemo tutta la tematica. Io ho preso già il condatto su una riunione che abbiamo fatto con la commissione con il CNR regionale per avere una consulenza su questa materia. E così come ha voluto la commissione, ha anche contattato l'azienda, la NEPI-SRL, che deve realizzare questo opificio, che ci dia il progetto, ci trasmette il progetto in modo da poterlo far visionare. E contemporaneamente abbiamo fatto anche una richiesta di andare a visitare un opificio similare a quel che dovrà essere realizzato a Senise. Io comprendo le preoccupazioni del comitato che si è costruito a Senise, che sono anche le nostre preoccupazioni. Però credo che intorno a questa vicenda si sta creando troppo allarmismo. D'accanto loro, Di Sanso e il comitato hanno ribadito, vista la presunta apertura del sindaco al confronto sul tema, la richiesta di un confronto aperto con la cittadinanza, dove la NEPI-Tali insieme al sindaco potrà rispondere alle tante domande che ormai da circa un mese si affollano nella mente di tutti.